9.25 le informazioni sul traffico, l'appuntamento con Rai Mobilità. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Traffico intenso sulle direttrici che conducono i centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Come di consueto monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta da Prato sulla 11, come vedete flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate, scendiamo alla dirammazione di Roma Sud, esattamente sulla 1, l'autosole, dove abbiamo una viabilità più fluida anche se al momento si registrano code sull'etratto capitolino della 24 tra Fiorentina e tangenziale est verso il centro della capitale per 5 km. Viabilità questa mattina condizionata anche da alcuni incidenti, inizio a comunicarvi che sulla 4 Brescia-Padova si è verificato un incidente con coinvolgimento di due auto tra Verona Sud e Peschiera in direzione Milano che sta generando code per 8 km. Ci trasferiamo in autosole sulla 1, traffico da pochissimi minuti sbloccato per un incidente tra un'auto e un camion tra Piacenza Nord e Casal Posterlengo con code per 6 km. Raggiungiamo la Sicilia per segnalarvi un tratto chiuso motivato da una frana con fondo stradale dissestato, la strada statale 121 Catanese, tra Assoro e Pirato. Sulle fronte meteo abbiamo un peggioramento del tempo al centro-sud con le precipitazioni e attualmente sono nevicate in atto al traforo del Monte Bianco sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo e sulla 32 Torino Bardonecchia, quindi partite equipaggiati di pneumatici invernali o catene a bordo. Prudenza anche per presenza di pioggia in area toscana tra Firenze e Livorno, qui il limite di velocità scende da 130 a 110 km orari. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. Da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità l'augurio di una buona giornata e guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo appuntamento alle ore 12.25. Arrivederci.